sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio del nostro amato san michele arcangelo a luz de maria del 17 marzo 2023 come sempre richiamiamo in noi lo spirito santo perché possa illuminarci sulla comprensione del messaggio e possa donare al nostro cuore la speranza di un mondo migliore visto che ci troviamo alla fine dei tempi in questa grande tribolazione dove ognuno di noi deve richiamare costantemente lo spirito santo in tutte le situazioni per essere illuminato e per non cadere in tentazione amati figli del nostro re il signore gesù cristo i figli di dio camminano con lo scudo impenetrabile della fede sicuri di essere conformi all'amore e alla misericordia divina molte persone continuano a non credere nel nostro re signore gesù cristo e questo è il grande errore di questa generazione a un passo dall'avvertimento gli uomini stanno festeggiando insieme al demonio cosa c'è in serbo per loro se non pentirsi e convertirsi per salvare l'anima l'avvertimento non è lontano state divagando con le date ma non è lontano nei primi nei piani del demonio c'è l'intenzione di destabilizzare i fedeli del nostro re signore gesù cristo affinché si allontanino da cristo stesso tanti figli del nostro re signore gesù cristo si stanno accaparrando posti preferenziali in atti a ammicanti del del demonio senza sapere che diventeranno suoi schiavi e verranno trattati duramente dall'anticristo come schiavi figli del nostro re signore gesù cristo state vivendo momenti molto duri che diventeranno di agonia cosa sta succedendo l'orso uscirà per primo dalla sua tana e porterà a soffrire l'umanità causare a grande strepito in europa e in america l'orso che appariva prudente tirerà fuori il suo arsenale e sorprenderà la calma sembrerebbe continuare per l'umanità ma è perché non considerate quello che sta succedendo ai vostri fratelli di altre latitudini i miei angiadi si stanno muovendo sulla terra placando menti infiammate dal desiderio di ripetere la storia di nerone con armi di grande potenza questa generazione vedrà una cometa passare molto vicino alla terra al punto che la farà muovere pregate figli del nostro re signore gesù cristo pregate per la francia arderà a causa del suo stesso popolo e a causa di coloro che sono venuti da altre nazioni per causare scontri pregate l'economia vacillerà e l'umanità soffrirà a causa dei prezzi molto elevati l'america soffrirà moltissimo pregate per la nuova malattia con febbre alta che colpirà in modo grave le vie respiratorie e la pelle dell'uomo diventerà scura e si squamerà vi invito a utilizzare sulla pelle l'olio di san michele arcangelo la pianta medicinale della fumaria e l'olio del buon samaritano pregate figli del nostro re signore gesù cristo pregate per riparare per invocare misericordia e perché siate umili e veri figli del nostro re signore gesù cristo vi chiedo di non aspettare fino all'ultimo momento per convertirvi è necessario il pentimento dovete elevare la vostra condizione spirituale affinché lo stato dell'anima sia più affine al creatore in quanto figli del padre voi siete difesi dallo stesso amore divino le mie legioni non si allontaneranno da voi noi vi difenderemo sempre vi invito a mettere alla caviglia dei bambini un nastro azzurro con un ictus il simbolo dei cristiani cercate una medaglia che lo raffiguri e mettetegliela infilandola nel nastro i bambini devono indossare questa medaglia a partire da un anno di età in poi fino ai dieci anni anche se la fede è infinita se alcune persone più avanti con l'età vorranno utilizzare ictus potranno farlo questo vi proteggerà dagli spiriti maligni voi siete benedetti avanti senza paura la fede indispensabile vi benedico san michel arcangelo ave maria purissima concepita senza peccato come sempre in descrizione troverete il link per accedere al sito ufficiale di luce di maria e troverete sotto ogni messaggio questi link che riguardano l'avvertimento l'orso che rappresenta la russia riguardo al pericolo degli asteroidi e poi riguardo a riguardo a questa nuova richiesta che san michel arcangelo ci ha fatto ovvero di questa medaglietta con il simbolo del pesce in greco ictus con il nastro azzurro da avvolgere ai nostri bambini ovviamente dopo che li facciamo benedire convento di luz de maria fratelli percorrere la via stretta non è facile ma noi sappiamo di non essere abbandonati perché l'aiuto divino ci accompagna san michel arcangelo ci mette davanti un panorama molto serio e nel quale ci stiamo addentrando come umanità ci troviamo di fronte a una crisi economica mondiale che porterà all'aumento di tutto ciò che per noi è di prima necessità e questo incrementerà la crestia in vari paesi di tutto il mondo il clima e altri fattori hanno devastato terre destinate alle coltivazioni le profezie si stanno compiendo e noi dobbiamo conoscerle per renderci conto che il cielo ci sta parlando e che dobbiamo prestarle ascolto qui troviamo qualche messaggio nostro signore gesù cristo l'uomo si basa sull'economia per la sua sicurezza dimenticando che sono io a fornirgliela l'economia cadrà in un abisso profondo e l'uomo di poca fede tremerà fino allo sconcerto e oltre e questo è un messaggio del 2013 cioè di dieci anni fa quindi pensiamo a come il cielo abbia la visione di tutte le cose che devono accadere con oltre 50 anni di anticipo la vergine maria 2016 poveri figli quelli che di fronte al denaro cadono in ginocchio di fronte al suo crollo a livello mondiale e in modo irrecuperabile avverrà come nel gioco del dominio nel domino il denaro andrà in caduta libera senza che si possa limitarla voi figli miei vedrete con stupore molti dei vostri fratelli cadere preda della malattia della mancanza di potere economico e il demonio approfittando di quel momento e in cambio delle loro anime offrirà loro le comodità sarà allora che le legioni maligne si impossesseranno dei corpi di cui i miei figli che si venderanno per denaro diventando i persecutori di quelli che prima erano i loro fratelli pregate con fede prima che questa profezia si compia 2015 nostro signore gesù cristo apparirà una cometa che metterà in agitazione tutta l'umanità voi rimanete nelle vostre case tenete pronta l'acqua benedetta in ogni casa ci sia una bibbia e dedicate un angolo della casa per mettervi in un piccolo altare con l'immagine della mia madre santissima e con un crocifisso e consacrate la vostra abitazione alla mia santa volontà così che io possa proteggere nei momenti necessari nostro signore san michel arcangelo 2019 è necessario che il popolo del nostro re signore gesù cristo comprenda che questo momento decisivo e che per questo che il male sta utilizzando ogni possibile tattica delle vili armi a sua disposizione per infangare la mente dei figli di dio quelli che trova deboli nella fede li induce a cadere in atti nefasti e in questo modo mette a costoro più facilmente le catene perché siano sui schiavi sempre nostro signore gesù cristo 2016 amato popolo mio soffrirete a causa della carestia irreversibile delle risorse naturali soffrirete in tutta la terra perché l'economia si fermerà e questo sarà da addebitare il piano che è stato messo in gestazione da molto tempo da parte di quei di quei gruppi la cui esistenza è antecedente all'anticristo amen sia lodato gesù cristo allora questo messaggio di nostro amato san michel arcangelo mi chiedo scusa per la mia voce sono ancora in malattia e presumo che lo sarò ancora per qualche altra settimana e allora chiediamo allo spirito santo di venire a parlare noi di venire a fondersi nel nostro battito del cuore nei nostri respiri nei nostri polmoni nei nostri pensieri perché possa introdurci in una piccola riflessione su questo messaggio che va sicuramente riletto più volte abbiamo parlato dell'avvertimento ci sono tanti falsi profeti sulla terra ma anche tanti veri profeti e tutti parlano di questo grande avvenimento l'avvertimento molti danno delle date eppure non c'è bisogno che ci siano delle date perché l'avvertimento deve essere un evento che noi dobbiamo vivere tutti i giorni ovviamente verrà in quel singolo momento dove dio ci mostrerà la nostra coscienza con con i suoi occhi quindi i nostri peccati i nostri meriti le nostre opere e ci farà anche vedere la nostra missione sulla terra quello che dobbiamo fare per servirlo al meglio però l'avvertimento deve essere anche un esame di coscienza che tutte le sere dobbiamo fare prima di andare a dormire perché questo ci deve maturare nell'essere migliori nell'essere più etici nell'essere più educati nell'esaminarci a fine giornata se siamo stati cattivi se abbiamo detto parolacce se abbiamo sfruttato e quindi questo ci deve far riflettere perché l'avvertimento non è soltanto un evento ma deve essere uno stile di vita allora continuando la riflessione san michel arcangelo ci parla della russia la russia che sorprenderà il mondo e passerà dal suo accusare i colpi sanzioni e proteste da tutto il mondo con l'agire fisicamente abbiamo letto in altri messaggi che la russia ha una tecnologia superiore alle altre nazioni e quindi passerà all'azione sorprendendo il mondo con questa tecnologia e agitando le nazioni agitando le nazioni soprattutto l'america che già in agitazione a causa della guerra a causa dell'economia abbiamo visto in questi giorni che già alcune banche stanno fallendo le banche più grosse sono anche in agitazione e quindi dobbiamo comprendere che dietro le quinte ci sono elite massoneria lobby che gestiscono tutto il quadro generale dell'umanità tutto quello che deve accadere e quello che sta accadendo e allora noi come popolo di dio dobbiamo continuare questo cammino nella conversione sapendo che anche l'universo cerca di smuovere le coscienze di questi uomini della terra che hanno superato perfino il demonio nella crudeltà e quindi qua abbiamo letto di questo di questa cometa che passerà molto vicino alla terra non viene specificato quale cometa sia però dobbiamo fare anche distinzione tra cometa e asteroide perché tra ci sono diverse comete che hanno dei nomi diversi asteroidi che hanno dei nomi però sono due cose diverse e in questi giorni domani dopodomani passerà un asteroide vicino alla terra però è un asteroide quindi non è una cometa e di conseguenza il passaggio di comete e asteroidi sempre più vicini alla terra quindi questo avvicinamento permesso dagli angeli stessi che hanno la possibilità di manovrare gli oggetti che si muovono nell'universo sono dei modi in cui l'universo cerca di mettere in apprensione gli uomini della terra ma soprattutto i potenti che hanno la tecnologia per vedere gli oggetti che si avvicinano in modo anche pericoloso alla terra come asteroide comete per mettere nei loro cuori quella apprensione in modo tale che loro possono dire ma cosa stiamo facendo fermiamoci non vedete che siamo non vedete che la nostra vita può finire da un giorno all'altro a causa di asteroidi comete e noi siamo qui a forzare questa autodistruzione allora gesù continua attraverso san michael arcangelo e ci richiama la preghiera per le nazioni per 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 questa nuova malattia che hanno che preparano perché come come tutte le scorse malattie che sono state preparate in laboratorio e lo sappiamo attraverso questi messaggi di luz di maria ci dobbiamo preparare con questi medicamenti speciali che dobbiamo preparare in caso o che possiamo comprare online che sono la pianta medicinale della fumaria e questi due oli di san michael arcangelo e del buon samaritano se si proviamo a cercare su google li troviamo senza problemi ovviamente mi impegnerò a fare un video dedicato su questi tre strumenti che il cielo ci sta ricordando di usare contro queste malattie contro questa questa nuova malattia che colpirà soprattutto la pelle e la farà diventare più scura io sono sicuro di averla già beccata come segno che è una malattia che esiste perché c'è una macchia lunghissima che mi spacca la fronte e ho provato tutte le creme possibili senza nessun risultato ecco che anche io devo cominciare a usare l'olio di san michael arcangelo l'olio del buon samaritano e la pianta medicinale della fumaria per combattere queste macchie allora san michael arcangelo ci fa un'ultima richiesta quella di convertirci e di mettere in pratica san michele ci invita a fare a mettere in pratica questa ultima richiesta cioè quello di mettere ai nostri bambini fino all'età di dieci anni questo nastro azzurro alle caviglie con con questo simbolo dell'ictus che come sappiamo sotto come come abbiamo letto sotto questo simbolo pesce in greco ictus acronimo usato dai primi cristiani che celava la definizione completa di gesù di nazareth gesù cristo figlio di dio salvatore e quindi siamo chiamati a fare questo gesto per i nostri bambini fino a dieci anni i bambini devono indossare questa medaglia a partire da un anno d'età in poi fino a dieci anni anche se la fede è infinita e quindi questo questo gesto questo gesto questo questa azione di di mettere alla questo questo nastro azzurro con questa medaglietta con il simbolo dell'ictus quindi questo simbolo greco da mettere alle caviglie dei bambini possiamo metterlo anche noi alle nostre caviglie quindi la raccomandazione di farlo per i bambini affinché non siano soggetti a penetrazioni dagli spiriti maligni questi spiriti maligni oggi li vediamo lo vedo io soprattutto sui miei nipotini a causa a causa del cellulare a causa di tanti fattori ma il cellulare secondo me è uno dei peggiori perché dare un cellulare un bambino vuol dire che il bambino studierà di meno sarà sempre più toccato i giochi e di conseguenza abbiamo una grande responsabilità verso i nostri bambini che necessitano di questo nostro atto san michael arcangelo concludiamo il messaggio ci tiene che mettiamo in pratica questa questa azione d'amore verso i nostri figli io provvederò a fare un altro video dedicato oltre a quello della malattia con gli strumenti che ci ha chiesto san michael arcangelo per per trovare queste medagliette per trovare questi nastri che sono facili da trovare e e quindi possiamo anche trovare trovare il simbolo della della medaglietta e con la colla a caldo incollarlo sulla su questo nastro senza che ci debba essere anche tutta la collanina che potrà fastidio la paviglia quindi questo simbolo della questo simbolo greco dell'ictus lo possiamo collare con la colla a caldo o altri tipi di colla o lo possiamo cucire al nastro o trovare già dei nastri pronti con questo simbolo già ricamato e se non si può trovare la medaglietta e farlo portare ai nostri bambini ai nostri figli alle loro caviglie può essere sopra il pantalone può essere sotto il pantalone l'importante che questo gesto venga fatto perché è un gesto che il cielo vuole vedere attraverso questi messaggi quante persone lo fanno io vi porto tutti nelle mie preghiere e vi chiedo perdono anche per la mia influenza per la mia malattia se non posso metterci la faccia ma tutto è per la gloria di nostro signore gesù cristo per mezzo del cuore emacolato di maria attraverso il nostro amato san michel arcangelo